Eccoci alla nostra puntata del lunedì sera del Family Business Club, quindi siamo molto felici di continuare le nostre conversazioni dedicate alle imprenditori, alle imprese di famiglia, a chi ci lavora come manager, a chi ci lavora come consulente, a chi ci lavora come accademico e questa sera proprio abbiamo la fortuna di avere con noi un professore, un professore di università che ci aiuta a capire un po' meglio questo mondo perché lo conosce da tanto. E parliamo di Salvatore Tomaselli. Buonasera Salvatore. Buonasera Luca. Grazie di essere con noi, grazie di dedicarci un po' del tuo tempo perché ci fa sicuramente piacere sentire anche prospettive diverse. Siamo in un'Italia molto lunga, molto differenziata. Pensati che quando io ho cominciato a occuparmi di imprese di famiglia pensavo fosse una cosa da piccolo imprenditore veneto, credevo fosse legato al mio avere a che fare con un ambiente molto locale. Invece poi scopro, andando in giro per il mondo, che il family business è veramente una cosa trasversale che tocca tutti i continenti e tu ne hai toccati diversi anche. Ecco, da questo punto di vista, per chi non ti conosce, ricordo che sto parlando con Salvo Tomaselli che è professore di economia aziendale all'Università di Palermo, che ha un dottorato di ricerca, un PhD fatto all'Oiese di Barcellona, forse una delle più importanti business school d'Europa di sicuro, ma anche a livello mondiale, e che da molto tempo, poi gli chiederemo meglio i dettagli, ma da molto tempo è membro del Family Firm Institute, del Family Business Network, quindi due realtà molto dedicate al tema delle imprese di famiglia, ma poi fonda anche, insieme ad altri, l'International Family Enterprise Research Academy, quindi un ambiente di ricerca dedicato proprio alle imprese di famiglia. Un percorso, tra l'altro, Salvatore, che ci raccontavi, è sernato veramente forse agli albori di questa disciplina. Ci puoi raccontare come mai hai deciso di dedicarti e dedicare la tua professione al tema delle imprese di famiglia? Senz'altro, volentieri. Era il 1985, io mi ero laureato da poco più di un anno, ero stato per due anni in quella che vidi diventare Pricewaterhouse, KPMG, io entrai in una società francese che si chiamava Elios, questa società si fuse con Pete Marvick Mitchell, e poi qualche mese dopo si fuse nuovamente con un'altra società americana dando luogo a KPMG. E in quegli anni avevo girato tante imprese, peraltro facevo spesso assistenza ad attività di inventario di magazzino dal punto di vista statistico, e a un certo punto decisi di lasciare KPMG e tornai per la prima volta in Sicilia, con l'idea di intraprendere una professione. Sono figlio d'arte, mio padre aveva uno studio professionale, è andato ormai in pensione, però cominciai a coltivare anche un certo interesse per l'università. E quando mi chiesero di intraprendere un rapporto di collaborazione, posi come condizione due cose, poter continuare a studiare e poter continuare di tanto in tanto, dicevo allora, a mettere il piede fuori dalla Sicilia, perché la Sicilia è un'isola e insularizzarsi non aiuta, secondo me. E così intrapresi un percorso parallelo al mio primo percorso professionale, in Bocconi, in SDA, dove Vittorio Coda mi disegnò un percorso ad personam, mi propose di fare l'NBA, ma io non avevo le risorse per lasciare il lavoro per così tanto tempo, e poi così mi disegnò questo percorso, che era fatto di tanti corsi seguiti, fece un percorso di cinque anni invece che di un anno e mezzo, partai. Il primo di questi corsi si chiamava CISD, Corso Intensivo di Sviluppo Direzionale, e tra i miei colleghi di corso vi erano dirigenti di azienda, e almeno metà dei partecipanti erano persone coetanee mie o poco più grandi di me che si affacciavano alle loro aziende di famiglia, erano in molti casi seconde generazioni di aziende familiari. Allora, durante il corso studiavamo analisi bilancio, strategie, organizzazione, finanza, marketing, produzione e così via di seguito, e poi alla macchinetta del caffè queste persone parlavano fra loro di una serie di problematiche che riguardavano di fatto la relazione tra loro e la famiglia e tra loro e l'impresa in quanto membri della famiglia proprietaria. E così dissi, ma qui c'è un mondo, queste persone parlano di problemi reali che loro affrontano, che loro vivono e che hanno impatto sul futuro di queste aziende, eppure io non trovavo in letteratura quasi nulla che parlasse di queste realtà. E anzi ricordo che quando ho tornato a Palermo parlai del tema, ho fatto questa riflessione, la prima risposta che mi venne data me la sono sentita dare tantissime volte nel corso della mia vita è intanto questi sono problemi di psicologia che con l'economia aziendale hanno poco a che vedere. e poi sai, in fondo, la miglior cosa che un'azienda di famiglia possa, un'azienda familiare, impresa familiare, possa capitare, smettere di essere familiare prima possibile e diventare una vera impresa. Era questo il leitmotiv che girava non solo in Italia, anche io ho avuto prima la sensazione che fosse un problema nostro, italiano, poi ho scoperto che così non era. e quindi questa passione continuai a coltivarla più o meno clandestinamente perché non mi veniva sdoganato come terreno di caccia di un economista aziendale, sono sempre stato un po' eretico io come accademico e quindi continuai a coltivarla clandestinamente ogni tanto trovavo qualche articolo. Non so, venne fuori un libro pubblicato da Daniele Boldizzoni sotto i tipi del Sole 24 Ore, l'impresa familiare. Scoprì che c'era sempre in Bocconi i piantoni che si occupava di aziende familiari e qualche anno dopo venne fuori con un libro e trovai una raccolta, un numero speciale della Harvard Business Review dedicato alle aziende familiari in cui c'era una raccolta di articoli, uno di Davis, uno di Landsberg è forse il primo speciale sulle aziende familiari che abbia trovato pubblicazione in una rivista internazionale. Ogni tanto si trovava qualche capitolo di un libro dedicato al management, se non ricordo male, persino in The Funches of the Executive di Chester Barnard. C'è un capitolo dedicato nel caso in cui l'azienda sia un'azienda familiare, ma trattato come tema assolutamente residuale. cominciai anche a ricevere qualche richiesta di assistenza da aziende familiari e ricordo una cosa, con una certa tristezza vennero a trovarmi dei cugini di mia madre che avevano un'azienda di famiglia, la famiglia di mia madre era una famiglia di imprenditori, vennero a trovarmi e io decretai che la situazione della loro azienda era tale per cui loro avrebbero resistito dieci anni e poi avrebbero chiuso l'azienda. E gli dissi guardate che questo vi succede per il modo in cui è strutturata la proprietà della vostra azienda e gli equilibri tra coloro che lavorano e coloro che non lavorano in azienda. non mi fecero caso più o meno in quella circostanza, mi sbagliai perché i libri in tribunale riportarono nove anni e sei mesi dopo, non dieci anni. E lì inizio un percorso di accompagnamento ad alcune aziende familiari fino a quando poi in questi continui intrecci la mia vita è costellata di incontri che hanno avuto peso perché ho incontrato grazie a Carlo Storci che è stato il mio maestro a Palermo Vittorio Coda poi attraverso Vittorio Coda ho incontrato Marco Vitale per il fatto di essere in rapporto con queste persone ed è niscelto da Teresi, Totò Teresi che fu il fondatore del Ceris di qui a Palermo ma che è stato cosa più importante tra i fondatori dell'Inziad a Fontemblò dopo essere passato per la Columbia University dove insegnò marketing per un certo numero di anni. In Italia ha contribuito a fondare scuole come l'Isworth Fiat la Rice Romolis il Quoa l'Istud e così via di sé era una persona che aveva un'esperienza seriale nella fondazione di Business School e lui a un certo punto io diventai il suo assistente il suo collaboratore principale poi un giorno mi disse Salvo se tu vuoi far carriera come accademico in una Business School internazionale non puoi non avere nel curriculum un titolo di studi internazionali e così lui mi convinse a presentare la mia candidatura e io scegliemmo insieme le scuole in cui candidarmi e mi candidai all'Inziad e all'Uiese veni preso all'Inziad ma all'Inziad a occuparsi di Family Business c'era Manfred Keatsdevries che è uno psicanalista e che affronta lo studio delle aziende familiari con una prospettiva assolutamente psicanalitica molto valida lui è molto bravo molto solido però non era compatibile con i miei interessi professionisti quindi se fossi andato lì avrei preso studi di strategia tu puri quando andai all'Uiese incontrai Miguel Angel Gallo che era professore di strategia e che aveva fondato la prima cattedra di Family Business in una business school in Europa scattò una sorta di amore a prima vista io piacque a lui lui piacque a me e così decisi di accettare l'Uiese e non l'Inziad in quegli anni l'Inziad era la prima business school in Europa e l'Uiese era al quinto posto oggi le posizioni sono invertite nell'executive l'Uiese è considerato dal Financial Times al primo posto in Europa mentre l'Inziad è al quarto al quinto posto il mondo è dinamico sono eccellenti business school si contendono le graduatorie delle prime delle top 20 internazionali però le cose cambiano ricordo che quando parlai con la segretaria del PhD all'Inziad e dissi che di più tavolo l'Inziad per accettare l'Uiese e lei mi disse ma lei ha capito a cosa sta rinunciando perché le spiegai fra l'altro che volevo andare lì perché c'era una cattedra di family business importante che mi piacera e mi disse ma lei lascia una possibilità di far carriera in strategia che era in quegli anni la regina per andare a fare cose in questo mondaggio con Miguel Angel scoprì che nell'85 nello stesso anno in cui avevo maturato interesse per le aziende familiari un gruppo di persone tra cui dall'Italia Guido Corbetta che è uno dei dei pionieri anche lui Guido fece la sua tesi di laurea con Marco Vitale e da lì scoprì il mondo delle aziende familiari ed è diventato uno dei pionieri del mondo delle aziende familiari qui da noi in Italia un gruppo di persone aveva fondato l'FFI il Family Firm Institute con sede a Chicago e qualche anno dopo nell'89 questo stesso gruppo di persone fondò l'FBN con sede a Lausanne in Svizzera fra i fondatori di queste realtà c'erano persone come John Ward Ivan Lansberg Marco Vitale Guido Corbetta e io entrai in contatto con questo mondo entrai in contatto con FFI di cui diventai socio di cui diventai associato l'FFI è un'associazione come l'FBN poiché i fondatori erano praticamente le stesse persone decisero di dare due focalizzazioni diverse entrambe le organizzazioni nacquero con una prospettiva assolutamente internazionale transatlantica in origine ma poi l'obiettivo era già quello di essere organizzazioni globali e allora FFI si è specializzata in tutto quello che è la formazione dei practitioners cioè dei consulenti delle persone che hanno un atteggiamento molto rivolto alla pratica mentre FBN era diventato il luogo in cui gli imprenditori facevano network cosa che continuano a fare e in più avevano dei confronti con gli accademici a un certo momento vennero all'inizio c'erano anche i consulenti era un foro che accoglieva questi tre mondi poi a un certo punto da FBN decisero di allontanare i consulenti perché alcuni consulenti avevano cominciato ad avere degli atteggiamenti molto aggressivi molto da venditori e questo finì con l'infastidire secondo me anche correttamente i soci qualche anno dopo nel 99 io tornavo da una conferenza internazionale con un fortissimo senso di frustrazione perché ancora una volta io partecipai per la prima volta a una conferenza internazionale che era una conferenza dell'FBN a Milano ero studente in Bocconi ma presentai il mio primo paper internazionale in questa in questa occasione in cui si svolgeva la conferenza in Bocconi nel 93 ed eravamo 60 persone che venivano da varie parti d'Europa 60 fra imprenditori accademici e consulenti i paper presentati a quella conferenza erano 6 mi attribuirono il premio per il miglior saggio di ricerca presentato era sui consigli di amministrazione nelle aziende familiari effettivamente era un tema di frontiera nessuno aveva studiato il tema non era neanche uscito il libro di John Ward su questo tema e quindi ero sempre più orgoglioso di occuparmi di questa cosa invece andai a una conferenza del Strategic Management Society e come capitava andando a queste altre conferenze appena tu dicevi mi occupo di family business ti guarda ma no ma trovati una cosa di seria da studiare cosa sono queste aziende familiari oggi il mondo è pieno di articoli o di libri che cominciano dicendo le aziende familiari sono le aziende più statisticamente come dire costituiscono di gran lunga la moda statistica nel mondo ai tempi non ce n'era consapevolezza per cui bisognava legittimare l'interesse per questo fenomeno strano che erano le aziende familiari e quindi tornai e dissi a Miguel Angel Gaio abbiamo bisogno di fondare un nostro foro accademico in cui poterci confrontare perché effettivamente si sentiva un grande bisogno di migliorare non so nei metodi di ricerca nella robustezza della ricerca scientifica nella correttezza nella stratificazione dei campioni le prime ricerche effettivamente tendevano a mettere insieme mondi fra loro molto diversi aziende piccole con aziende grandi aziende internazionalizzate con aziende molto locali e diventava difficile da lì far delle generalizzazioni tant'è che spesso poi si è detto ma i primi studiosi erano molto aneddotici è chiaro loro venivano da un mondo in cui avevano fatto esperienza di certi problemi e di quei problemi raccontavano però avevamo bisogno come ricercatori di parlare di metodo di parlare di robustezza dei risultati e così via di seguito e ovviamente fare questi ragionamenti dentro il foro di FBN era complicato perché era un po' come se uno va a un convegno di pazienti e i metodi ti vengono a raccontare non come curare la tua patologia ma come hanno fatto loro le ricerche e quindi questo è complicato non interessa non suscita interesse e allora da lì iniziamo a virare verso l'idea di andare nei fori accademici ma nei fori accademici ci rifiutavano per cui io dissi a Michele credo dobbiamo fondare un nostro foro accademici e lui mi disse fallo ma io ero già tornato a Palermo sebbene stessi ancora molto in contatto con l'Oiese gli dissi guarda se io da Palermo lancio un'iniziativa di questo genere non mi segue nessuno la dobbiamo lanciare da qui dall'Oiese ma lui disse ma deve essere una cosa della vostra generazione e così chiamammo un po' di amici eravamo in nove la nostra fotografia del primo incontro è nella pagina nella prima pagina web del di Fera e decidemmo di fondare questa associazione nove amici intorno a un tavolo da lì siamo andati crescendo e adesso abbiamo 350 associati stabili da varie parti del pianeta le conferenze contano 400 380 più o meno iscritti la selezione di paper è diventata una selezione seria competitiva e così via di sempre e anche negli altri luoghi hanno cominciato a capire che le aziende familiari sono una realtà assolutamente interessante da studiare anche perché tu le puoi affrontare da qualunque prospettiva disciplinare tu voglia non solo dalle tipiche discipline del management la strategia l'organizzazione i processi persino il marketing persino i sistemi di rendicontazione possono avere delle peculiarità io ogni volta che vedo comparazioni di bilanci fra aziende di studi massivi di bilanci che comparano aziende familiari con aziende non familiari io domando a chi ha fatto lo studio scusa mi hai depurato i dati dalle eventuali interferenze e lui mi dice quali interferenze beh per esempio gli immobili di famiglia iscritti nel bilancio di un'azienda la barca di famiglia iscritta in un bilancio aziendale e così via tutte queste cose finiscono col pesare sul conto economico altre finiscono col pesare sullo stato patrimoniale e così via ci sono molte politiche di bilancio che si possono fare anche legittimamente devo dire non politiche sporche che alterano le comparazioni e poi però ci sono altre prospettive ci sono le prospettive appunto degli studi di famiglia ci sono le prospettive dei legali sappiamo che tutto il tema della gestione dei patrimoni implica scelte che hanno refluenze legali e così via di seguito e nel tempo si è avvertita sempre di più l'esigenza di costruire dei professionisti e anche a mio modo di vedere è necessario che vi siano dei ricercatori che mettono insieme queste prospettive perché il vero io dico sempre quando quando sto in questi in queste conferenze ragazzi venire a studiare aziende familiari e fare uno studio solo della componente aziendale non serve perché per quello bastano gli studi di management nelle loro varie articolazioni allo stesso modo in cui venire a una conferenza o a un forum sulle aziende familiari e parlare solo dei problemi delle famiglie o delle funzionalità o disfunzionalità delle famiglie non serve perché per questo ci sono i fori degli specialisti quello che fa questo mondo è la convivenza di questi due sistemi che può essere sinergica e in molti casi lo è o che può essere disfunzionale e in alcuni casi lo è e ormai da alcuni anni io vado dicendo che spesso il mondo degli studi sulle aziende familiari è andato come sempre come tutti i mondi di studio a colpi di pendolo il pendolo appeso ogni tanto sul fronte dell'azienda e ogni tanto sul fronte della famiglia mi auguro che arriviamo oggi si avverte molto il bisogno effettivamente di tornare a mettere dentro la famiglia negli studi di matrice aziendale e quelli che hanno matrice più familiare per così dire più di studi di psicologia familiare sociologia familiare e così via di seguito tendono a entrare di più anche sulle tematiche aziendali c'è una frase che spesso viene detta per esempio dice ma la vostra è un'azienda in cui conta il family first o il business first e questa è una frase che a me fa venire la pelle d'oca perché in realtà è come chiedere a una nave all'equipaggio di una nave ma per te conta più la nave o l'equipaggio dove la nave è l'azienda e l'equipaggio sono le persone della famiglia beh se tu sfasci la nave per interessi di breve periodo dell'equipaggio l'equipaggio non andrà a nessuna parte se tu uccidi l'equipaggio per salvare la nave forse qualcun altro ci navigherà ma quell'equipaggio si è si è autosuicidato si è suicidato si è autocastrato per così dire allora in realtà a me piace molto la prospettiva io ho avuto la fortuna di avere come maestri di che mi hanno tolto dal noviziato in questo mondo persone come John Ward Ivan Lansberg John Davis che ho riascoltato con piacere qualche settimana fa in un corso mi sono iscritto a un corso per il piacere di poterlo riascoltare 25 anni dopo l'ultima lezione sua a cui avevo assistito e l'atteggiamento di queste persone è sempre stato un atteggiamento di sintesi per carità riconosciamo che ci siano delle circostanze in cui si tende a privilegiare gli aspetti familiari o si tende a privilegiare gli aspetti aziendali ma questo può capitare funzionalmente in alcuni momenti ma poi bisogna tendere nuovamente a riequilibrare le cose perché quando tu squilibri stabilmente questo rapporto prima o poi hai dei problemi sconti dei problemi è un percorso affascinantissimo ti dico siccome parlavi di tutti gli autori che ci sono almeno in uno o due scaffali della mia libreria io li ho letti li ho studiati ma non li ho vissuti e non ho partecipato come hai fatto tu a quel percorso che è lungo oramai 30 anni anche di più sostanzialmente credo veramente che sentirti a me emoziona perché vuol dire veramente partecipare a quel percorso come hai detto tu anche di consapevolezza io vengo da studi aziendali come i tuoi Coda Coda era insieme a molti altri dei riferimenti io vengo da Venezia da Ca' Foscari ed effettivamente venivamo formati per fare i giovani manager nelle aziende che dovevano essere manageriali come giustamente hai ricordato e questa percezione della limitatezza degli studi per quanto affascinanti di economia aziendale quando poi si tocca il mondo dell'imprenditore per me è stato evidente dopo soprattutto calando nella mia professione verso le aziende più familiari ed è stato affascinante secondo me per me appunto scoprire che intorno c'era questo mondo ma che effettivamente non era ancora così visibile mentre oggi ormai lo è assolutamente assolutamente quindi è veramente bello ascoltarti su questo fronte e sentire come sia stata un'evoluzione in questi anni esatto è stata e tu pensa che in quegli anni qualche problema di microfono forse mi senti? no non sento pronto? c'è un momento non so per quale motivo pronto? nel frattempo leggo un commento di Fabrizio che ci chiede se c'è qualche collegamento o qualche lavoro di ricerca su delle 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 prospettive come quella della PNL rispetto alle imprese di famiglia beh io un pochettino l'ho fatto Fabrizio proprio partendo da quel presupposto nel senso che venivo da studi di economia da un percorso professionale di economia ed è stato molto utile per me il counseling da una parte piuttosto che la PNL dall'altra proprio per riuscire a capire quanto le dinamiche di tipo relazionale di interazione appunto del singolo dei gruppi diventava fondamentale per capire dinamiche di famiglia dentro l'impresa quindi assolutamente sicuramente per me è stato importante adesso si sente? adesso si ti sentiamo ah grazie non so cosa fosse successo nessun problema ne avevo approfittato per rispondere a Fabrizio che chiedeva se c'erano infatti grazie di collegamento un po' tra il mondo della psicanalisi ma anche da un punto di vista cognitivo tu hai raccontato di Kat Devry che è un grandissimo autore che appunto ho studiato anch'io c'è un bellissimo libro per chi fosse interessato Family Business on the Coach che è molto bello per capire alcune dinamiche di quel tipo ma raccontavo a Fabrizio che nel mio percorso ad esempio l'arricchimento che mi è venuto dagli studi di cancelling da una parte o di PNL dall'altra mi sono stati molto utili per capire altrimenti dinamiche difficilmente comprensibili e quindi nel mio specifico mi sono fatto un po' un percorso da practitioner un pochettino inventandomelo cercandolo forse anche ricevendolo casualmente ma mi fa piacere sentire che confermi la necessità che abbiamo di coltivare queste molteplici sensibilità tra virgolette io dico sempre che bisogna essere un po' come il medico di famiglia non siamo degli specialisti ma capaci di integrare le diverse prospettive ecco da quel punto di vista tu però non sei un teorico e basta ci tieni a dire che hai fatto molto lavoro anche nella consulenza e quindi hai messo in campo la famiglia dei parenti e dell'analisi della loro capacità di sopravvivere da lì in avanti hai fatto molto anche pratica sul campo ci puoi raccontare un po' di questo è vero i miei primi lavori seri per così dire furono in affiancamento a Miguel Angel Gallio i primi sul fronte internazionale quando era ancora studente di dottorato lui mi dava la possibilità di seguirlo in alcune delle consulenze che lui faceva e in quei in quei tavoli ho imparato tantissimo per esempio la mia primissima esperienza la racconto con frequenza perché dà una prospettiva interessante sul rapporto padri figli rispetto al lo chiamò un imprenditore che era suo cliente ma anche amico chiedendogli aiuto e dicendogli guarda io sono un po' disperato perché io questa azienda che ho fondato l'ho portata avanti soprattutto negli ultimi anni con l'idea che un giorno mio figlio avrebbe preso il mio posto era molto tipico in quegli anni più di oggi l'aspettativa degli imprenditori che i figli seguissero adesso io ho supportato gli studi di mio figlio adesso lui sta finendo il suo master e io aspettavo che lui tornasse in azienda invece giusto qualche giorno fa mi ha comunicato che ha accettato una candidatura presso una multinazionale io sono abbastanza deluso perché mi sento abbandonato non capisco questa cosa però ormai ho capito che un dato di fatto semplicemente non riesco a comprenderne la logica vorrei capire che cosa spinge mio figlio a questa decisione così Michele anche gli disse io che posso fare dice ma se tu riesci a fare da mediatore tra noi in una discussione per evitare che da subito cominciamo ad alzare il tono di voce e non riusciamo neanche a terminare le frasi io te ne sono grato e così Michele organizzò un pranzo io ricordo che non appena chiamò il figlio e gli disse che lui conosceva fin da quando era bambino gli disse vorrei parlarti il figlio immediatamente disse ti ha chiamato mio padre e lui disse sì è vero vorrei riuscire a farvi parlare per spiegarvi organizziamo questo pranzo io presi parte al pranzo e un certo appena il padre cominciò a parlare il figlio disse papà posso dirti una cosa prego cosa ti ho fatto di male perché tu possa chiedere a me questo il padre lo guardò e gli disse perché mi dici questo la risposta del figlio fu la messa in moviola della sua vita di infanzia e adolescenza cioè lui disse io ti ho visto per tutta la vita costantemente pieno di pensieri per il lavoro costantemente dedicato al lavoro non potevamo andare in vacanza perché tu non potevi assentarti dal lavoro e quando andavamo andavamo con mamma perché tu non potevi lasciare il lavoro arrivavi a casa e non ti si poteva parlare perché eri stanco del lavoro eri amareggiato da qualcosa di lavoro e così via e per tanti anni della mia vita io ho pensato che questa è la vita l'ho dato come un dato di fatto poi sono venuto qui e qui tutte le settimane vengono dei manager di queste aziende multinazionali che ci raccontano le loro esperienze di vita e sono esperienze accattivanti e allora mi sono detto ma perché devo fare una vita disperante come quella di mio padre e non posso scegliere se me lo offrono di fare una vita e il padre a quel punto disse ma no figlio mio tu hai visto soltanto un lato del c'è poi tutto e gli incominciò a raccontare tutto il bello della vita di imprenditore i risultati il vedere il tuo prodotto affermarsi il vedere la tua idea trasformarsi in un prodotto in un prodotto che piace le sfide continue ma la possibilità di essere indipensato tutti gli aspetti che tipicamente fanno lieto un imprenditore del fatto di essere il padre il figlio gli disse guarda se queste cose me le avresti dette soprattutto mostrate nel corso del tempo forse adesso che tu me le racconti avrebbero un peso ma adesso per me è troppo tardi io non riesco a vedere questo nella tua nella tua vita e questa cosa mi colpi molto perché effettivamente io dissi c'è un modo di comunicarsi in famiglia che poi ha peso sulle scelte dei familiari forse quegli anni erano anni in cui il pendolo andava molto nella direzione del tentare di forzare la mano ai figli perché scegliessero l'azienda erano anni in cui se nascevi in una famiglia imprenditoriale c'era una sorta di senso di predestinazione non potevi che far quello poi le cose sono abbastanza cambiata e talvolta negli eccessi opposti poi racconterò un altro episodio molto più recente nel tempo che mi è capitato di vivere accompagnandomi anche il gaglio poi cominciò a propormi i primi incarichi da solo dicendomi io non ho tempo per seguire questo cliente meglio che lo segua tu finché nel 97 mi mandò per la prima volta oltreoceano andai veni invitato su segnalazione sua a tenere tre giorni di workshop in Ecuador a Guayaquil e così andai lì fu la mia prima volta all'estero e da lì mi vennero due richieste di consulenza a due aziende equadoregne erano anni in cui non c'era internet ancora non c'era la posta elettronica esisteva ma la utilizzavamo cioè si telefonava a qualcuno e gli diceva ti manderò un messaggio di posta leggilo non perché come oggi ne riceviamo troppi ma perché non si apriva mai la posta non avevi ragione di aprirla e da lì inizio un percorso che mi ha portato a incrementare i rapporti prima con la Spagna poi con vari paesi dell'America Latina ogni volta che andavo lì magari invitato per un workshop mi chiedevano se potevo offrire servizi di consulenza e così ho cominciato a diventare un po' un nomade nel senso che trascorrevo una parte considerevole del mio tempo fuori dalla Sicilia fuori dall'Italia frattanto anche in Italia cominciai ad avere qualche incarico di consulenza fuori dalla Sicilia ho avuto alcune collaborazioni anche con lo stesso Guido Corbetta abbiamo fatto alcune cose insieme però il mercato italiano era un mercato per me più complicato partivo dal sud non avevo i contatti pur essendo io un ex bocconiano non avevo i contatti della Bocconi e poi c'è una frase che un giorno mi disse a un collega spagnolo che mi aveva invitato a assistere in un certo processo alcuni suoi clienti e una sera a cena lui mi disse vedi Salvo tu per noi sei il partner ideale perché tu sei italiano noi ti chiamiamo tu vieni qui risolvi un problema te ne torni a casa tua non sei un competitore se tu stessi qui per noi saresti un competitore quindi sarebbe più difficile chiederti collaborazioni perché ci sarebbe il rischio che poi la presi come una battuta divertente però effettivamente era anche una spiegazione poi successe una cosa strana perché a un certo momento in Italia mi chiesero a Palermo mi chiesero di dare una mano all'avvio dell'incubatore accademico dell'Università di Palermo e così cominciai a ridurre un po' questo impegno internazionale fino a quando poi arrivò la crisi la crisi del 2009 e lì furono anni duri in cui la riduzione diventò pressoché totale cominciai a viaggiare molto meno e soprattutto per ragioni accademiche non più per ragioni di consulenza peraltro anche con qualche difficoltà sul piano accademico perché poi succedeva che le cose che cominciavano a essere importanti sul piano accademico erano cose che qui erano di scarsa utilità e c'era anche scarsa possibilità di studiarle e viceversa le cose di cui c'era bisogno qui erano cose che sul fronte accademico interessavano poco e arrivai a prendere la decisione di mollare il mondo del family business ed è una cosa che mi ha molto colpito perché io presi questa decisione la comunicai allo stesso Miguel Ancalgaglio che mi disse mi dispiace ma capisco il tuo punto di vista e forse fai anche bene a farlo e esattamente un mese e mezzo dopo cominciarono ad arrivarmi una serie di richieste di tornare a occuparmi di tematiche sia sul fronte accademico sia sul fronte professionale le prime richieste in realtà vennero sul fronte professionale e poi cominciarono a rinvitarmi a prendere parte a conferenze e così via l'anno di svolta fu il 2014-2015 anno in cui iniziai una collaborazione con una collega italiana che vive negli Stati Uniti che mi propose di collaborare a un incarico da lì poi mi segnalò alla Banca Mondiale e iniziai un rapporto con la International Family Corporation Finance Corporation che è il branch della Banca Mondiale che si occupa delle aziende private e con loro ho lavorato per due anni e mezzo a tematiche di governance nel sud-est asiatico ho seguito una grande azienda che aveva fatto un IPO in Indonesia a strutturare la governance familiare perché lì successe una cosa abbastanza interessante ed inusuale l'autorità di borsa dopo un anno da questo IPO che era stato molto positivo cioè era stato di grande successo chiamarono la proprietà e dissero guardate voi avete una governance aziendale stupenda però è anche vero che voi avete come famiglia voi controllate direttamente e indirettamente il 65% del capitale di questa azienda il rimanente il 35% è sul mercato voi dovete mostrare agli soci di minoranza di essere nell'insieme un socio affidabile e quindi vi dovete strutturare con un'adeguata governance familiare non mi è mai capitato neanche negli Stati Uniti d'America che la New York Stock Exchange chiami una una società quotata e gli dica dovete dimostrare di avere una molto corretto e lungimirante tra l'altro mi fa capire che hai lavorato non solo nell'America Latina ma anche nel sud-est asiatico e questo preparando un po' la domanda di Stefano Amato che poi adesso riprendo quello che mi fa pensare è che mi piacerebbe sapere da te se c'è uno specifico come si può dire di territorio rispetto al family business cioè occuparsi di family business in America Latina nel sud-est asiatico in Italia hai visto produrre delle differenze nelle realtà che hai trovato o in qualche modo ci sono degli archetipi delle dinamiche che si ripetono al di là della cultura e allora gli archetipi si ripetono i problemi che si vivono o le tematiche che si sviluppano sono abbastanza simili esistono sfumature che dipendono dalle culture piuttosto che anche a volte dalle influenze religiose per esempio nel lavorare con questa famiglia indonesiana una famiglia musulmana a un certo punto venne fuori il problema costruimo una family constitution e poi costruimo gli organi di governance familiare nella family constitution io ho scritto un libro su questo anzi ne ho scritti due ho partecipato ad altri due e ieri sera ho fatto la submission di un articolo sul primo studio massivo che viene fatto in America Latina sui patti di famiglia abbiamo analizzato 500 casi a mio modo di vedere una family constitution in Italia li chiamavamo patti di famiglia poi il legislatore ha rovinato tutto peraltro per evitare l'equivoco esatto perché il mio libro si intitola il patto di famiglia l'ho mandato in stampa nel febbraio del 2006 cioè l'anno in cui il legislatore ha deciso di rovinarci il termine e in un patto di famiglia in una costituzione familiare ci sono alcuni aspetti che sono costituzionali cioè i principi i valori le visioni e così via di seguito altri che io chiamo il diritto positivo le norme sull'ingresso dei familiari le norme sui trasferimenti di capitale e così via poi ci sono delle cose che io chiamo moral suasion i suggerimenti ai familiari allora è tipico che magari tu dici è opportuno che i familiari che contraggono matrimonio adottino un regime di separazione patrimoniale dal coniuge o dici anche magari se sei in un paese che lo permette è opportuno che i familiari sottoscrivano prima del matrimonio un patto prenuziale e così via di seguito allora io dissi quando vennero fuori questi temi io li indicai nella bozza di patto che scrissi seguito dei nostri incontri si suggerisce ai familiari i familiari vengono invitati a quando mi guardarono mi dissero no devono ma che dici scusate ma come si fa a dare un enforcement normativo a una regola di questo genere e loro mi risposero noi siamo musulmani e secondo la legge coranica noi abbiamo il diritto di farlo e siccome in Indonesia si applicano entrambe le norme sia quella civile che quella coranica questa parte del patto noi la appelliamo alla legge coranica ecco il tema era quello di tutte le famiglie del mondo cioè come fare a gestire nella realtà un tema che è estremamente complesso che è la gestione dei rapporti con i coniugi io sono come dire ho cominciato a vivere nei 35 anni in cui mi occupo di queste aziende inizialmente si ammettevano tutti poi si disse beh però è opportuno che con i coniugi si adottino delle cautele eccetera fino a quando l'atteggiamento è stato molto di i coniugi fuori questo atteggiamento però se non portato avanti correttamente ha un grandissimo effetto collaterale io ormai dico sempre quando si parla dei coniugi non dimenticate che questi signori o queste signore sono i genitori dei vostri familiari della prossima generazione se li trattate male trasmetteranno un senso di distanza dalla vostra famiglia ai loro figli e questo come famiglia non fa bene e quindi tornando a noi dici di fondo gli archetipi ci sono si ripropongono quasi in tutte le culture poi c'è lo specifico locale che può tarare diversamente la dinamica ok oppure anche il modo in cui per esempio si manifestano e si gestiscono le conflittualità certo molto culturale il modo in cui gestiscono le conflittualità in un paese di cultura musulmana sono molto diversi dal modo in cui gestiscono le conflittualità in un paese di cultura latinoamericana o di cultura europea ci sono culture come quella anglosassone o quella tedesca in cui si va molto diretti sul punto ci sono culture come quella latina in cui tu smussi le cose però poi magari se sei colombiano ti presenti col petto in fuori l'arabo ha un suo modo di rappresentare le cose ci gira intorno devi saper leggere di più i segnali deboli il disappunto non viene manifestato con la stessa veemenza con cui puoi essere però un sussurro detto da un soggetto che vive in un ambiente con una certa cultura equivale a un grido di dolore di un soggetto che vive in un'altra cultura e devo dire che questo per me è stato molto affascinante il fatto io ho avuto momenti in questo momento lavoro contemporaneamente con diversi team sudamericani diversi team americani nordamericani un team in cui siamo dentro un italiano un belga anzi un'australiana che è la capa del team un belga un cinese che vive nel Regno Unito una cinese che vive in Cina e io mi fa venire in mente un recente libro della Mayer la Culture Map che è molto bello proprio perché il tema della gerarchia il tema della delega il tema del feedback più o meno diretto della comunicazione più o meno diretta sono tutti temi che veramente ci differenziano uno di questi potrebbe proprio essere non c'è nel libro della Mayer che fa un lavoro di tipo più aziendalese è proprio la definizione di famiglia l'altro giorno un amico che ha molto a che fare con il mondo il mondo arabo e lavora molto a Dubai mi dice il legame che c'è tra cugini qui a Dubai è molto più stretto che il legame del legame che c'è tra fratelli in Italia per dire quanto la famiglia allargata sia molto significativa dove sono i confini della famiglia nucleare di più di più di più come si può dire gradi di distanza ecco in quel senso sicuramente ci sono grandi differenze culturali però la fatica del passaggio verticale i conflitti orizzontali come dico io in qualche modo si trovano per tutto permangono chiaro ecco torniamo però allo stimolo che mi arriva e mi piace molto da parte di Stefano Amato che ringrazio è un studente tuo? non è stato studente mio ma l'ho conosciuto qui a Palermo adesso mi lavora con Rodrigo Basco che è uno degli studiosi più interessanti secondo me di questo modo mi piace molto il commento che fa perché effettivamente lo vedo molto anch'io le aziende familiari sono molto radicate nel territorio abbiamo i distretti che sono un bellissimo esempio di cumuli di aggregati di imprese di famiglia e sicuramente l'essere radicati fa sì che ci sia molto legame con il territorio circostante un commento tuo su questo assolutamente questo è un tema che non solo ho avuto modo di riscontrare nella mia esperienza professionale anche le aziende familiari che operano su mercati internazionali continuano a manifestare intanto abitualmente hanno un forte radicamento nel loro territorio di origine sul quale continuano a investire sul quale continuano a lavorare così via un caso italiano fra i tanti ma è uno che mi viene in mente in questo momento con i quali non ho mai lavorato ne ho conoscenza e rispetto per altre ragioni è per esempio quello degli Zegna Zegna sono un'azienda multinazionale sono un'azienda che opera su più mercati però il loro radicamento nell'economia locale del Bielese è un radicamento attualmente ancora molto forte loro hanno un grande commitment per questo speciale a tutte le aziende del vitivinicolo per esempio che hanno fortissimi radicamenti nei loro territori ma questa cosa è venuta fuori anche negli studi che si sono fatti sulla resilienza o sulla capacità delle aziende familiari e non di resistere alla crisi finanziaria e così via di seguito per esempio è venuto fuori che le aziende familiari hanno resistito di più nelle riduzioni di personale rispetto alle aziende non familiari le aziende familiari hanno avuto un rapporto più conservativo nei confronti del proprio personale hanno teso a preservare il rapporto ci sono poi alcune storie che possono essere addirittura eroiche mi viene in mente la Amarelli che durante la seconda guerra mondiale ha dovuto chiudere lo stabilimento per un anno e non licenzione anche un operaio mandandoli a lavorare in campagna piuttosto che a fare la manutenzione degli immobili un'altra azienda italiana molto bella la Garbellotto ebbe un'esperienza simile stiedono per un anno senza ricevere ordini e qualunque azienda non familiare avrebbe chiuso eppure loro avevano questa idea non voglio essere io quello che decide che questa azienda che ha già un centinaio d'anni alle spalle debba chiudere sotto la mia responsabilità e quindi nella resilienza delle aziende familiari c'è anche questo desiderio di preservare il rapporto con il territorio l'economia del territorio le famiglie di quelli che lavorano per loro spesso io ho fatto vari lavori con sia di consulenza che di studio con aziende multicentenarie per esempio aziende degli enochieni è una cosa bellissima di queste aziende è che non solo tu ci trovi non so in Amarelli adesso sono alla quattordicesima generazione e tu ci trovi lavoratori di quattordicesima generazione perché sono i discendenti di quelli che iniziarono l'attività aziendale insieme ai fondatori proprietari di questa azienda e a mio avviso questo apre le porte a una riflessione che vorrei condividere con te e mi dici se anche a te torna cioè oggi che si lavora molto sulla dimensione comunitaria dell'impresa cioè in economia oggi la dimensione della partecipazione il coinvolgimento dei collaboratori l'idea di fare comunità è molto forte dico dal mio punto di vista l'impresa di famiglia deve diventare ed è un esempio a volte non così ben consapevole ma un esempio di comunità di pratica che può esprimere al meglio quello che si sta cercando di fare nelle aziende non familiari esatto è verissimo d'altro canto devo dire che uno dei primissimi lavori di Miguel Angel Gaio che poi è diventato una sorta di light motive degli studi sulle aziende familiari metteva in evidenza che il vantaggio competitivo delle aziende familiari sta nel fatto che riescono con minor dispendio di risorse a conseguire elevati livelli di coesione e di commitment perché c'è di mezzo questo rapporto familiare poi lui dice quando questo rapporto non è gestito correttamente ci si rivolta contro e si va verso l'opposto esatto di queste cose però è vero che in un'azienda di famiglia ben gestita ottenere commitment e ottenere verso un'idea di impresa e ottenere coesione verso questo progetto imprenditoriale è abbastanza più semplice il che però non significa che soprattutto quando si raggiungono situazioni complesse che non significa necessariamente con centinaia di familiari significa per esempio un'azienda già in terza generazione è un'azienda in cui bisogna lavorare con consapevolezza per contrastare le drive spontanee non so Guille Perkins che è un collega argentino molto simpatico che lavora anche lui da tanti anni con le aziende familiari dice signori teniamo presente che in un'azienda familiare esistono delle forze centripet e delle forze centrifuge certo lui dice bisogna contrastare le forze centrifuge io ho sviluppato un'idea come dire a partire da questo gliene riconosco assolutamente la paternità però poi a me è venuta un'idea un po' del sistema solare cioè il sistema solare è quel che è perché esiste un equilibrio tra forze centrifuge e centripet certo l'importante l'importante non è far prevalere le forze centripet su quelle centrifuge perché se prevalgono esclusivamente le centripet tutti precipitiamo sul sole invece quel che genera l'equilibrio del sistema solare è proprio questa capacità di tenere la distanza fra la centrifuga e la centripeta ed è un equilibrio dinamico non è stato ed è un equilibrio dinamico assolutamente tra l'altro un'altra riflessione che l'amico Enzo ci pone sul tavolo cioè parte dal radicamento territoriale per dire la paura delle nuove generazioni a prendere il testimone ecco da quel punto di vista ricordo un commento di Giuseppe Bertolussi sul tema dell'onere e dell'onore dice una volta c'era l'onore di essere figli di imprenditori in qualche modo quasi predestinati come dicevi tu ma i giovani imprenditori tante volte nelle associazioni di categoria erano i figli degli imprenditori oggi in qualche modo quell'onore è visto soprattutto come un onere e tanti rispetto al peso non tanto dichiarato culturalmente come l'esempio del padre di cui raccontavi nel pranzo all'inizio della nostra conversazione ma oggi effettivamente uno si chiede ho proprio voglia di prendermi questo peso e questa responsabilità di fare impresa quindi nuove generazioni forse non hanno questa determinazione questa volontà di dare continuità all'impresa soprattutto se non riescono a vederlo come uno sforzo collegiale allargato magari coinvolgendo il management coinvolgendo i collaboratori ecco come vedi le nuove generazioni rispetto alla sfida di raccogliere il testimone ci sono casi molto variegati nella mia esperienza perché non so per esempio il tema che tu poni è un tema che è diventato ormai di rilevanza sociale in Cina per esempio in Cina c'è un'enorme difficoltà a far seguire i figli dei fondatori delle aziende familiari nel perché si dice questi principini che sono cresciuti nella più assoluta abbondanza e così via di seguito in realtà non gli frega niente l'azienda di famiglia vogliono i soldi della famiglia e nell'anno in cui ho insegnato a Pechino in Cina proprio mentre mi trovavo in Cina e mi confrontavo con questi problemi venne fuori un articolo in Italia su un atteggiamento abbastanza simile in cui si diceva i figli degli imprenditori non vogliono l'azienda vogliono i soldi spesso lo vogliono per fondare la loro azienda magari perché vogliono vogliono mettersi in gioco non lì le realtà sono veramente molto variegate molto dipende anche dalla cultura che il mondo intorno a loro gli trasmette e a volte dipende anche dal fatto che da da quell'eccesso della predestinazione dell'obbligatorietà ad entrare nell'azienda di famiglia e così via di seguito si è passati quasi ad un eccesso opposto ricordo alcuni anni fa erano tre anni e mezzo fa più o meno avevo iniziato un progetto su richiesta del Family Business Network in affiancamento del chiedo scusa del Family Business Consulting Group con cui ho lavorato in tre o quattro circostanze mi avevano chiesto di affiancare una loro consulente in un progetto con un'azienda europea lavorammo insieme abbiamo lavorato per un po' di tempo e fra le domande che tipicamente si fanno quando si incomincia a lavorare con un'azienda era un'azienda in seconda generazione dove prima e seconda generazione erano co esistenti in azienda cioè i fondatori erano ancora in azienda e la seconda generazione era ancora in azienda era già in azienda allora chiedemmo come fossero i rapporti familiari e così via i semi tutto bene tutto bellissimo eccetera un giorno noi ci accorgemmo che in realtà i rapporti erano buoni ma c'era anche abbastanza distanza in questi rapporti un giorno mi telefona uno dei due fondatori quasi piangendo al telefono e mi dice salvo oggi è successa una cosa incredibile mia nipote 16 anni liceale la scuola le porta una volta al mese più o meno a visitare un'azienda del territorio oggi è tornata a casa ridendo e mi ha detto nonno oggi ci hanno portato a visitare un'azienda disse il settore non lo dico per evitare perché non importa ci hanno portato a visitare un'azienda di questo settore non ci crederai si chiama come noi e non sapeva che ci si potrebbe scrivere no comment sotto come in alcune ovviamente gli crollò il mondo addosso e di fronte alla domanda ma perché questo è possibile io gli ho risposto perché voi per preservare i vostri figli rispetto ai vostri nipoti rispetto al fatto che sentissero pressione di entrare nell'azienda di famiglia in realtà questa azienda di famiglia non gliel'avete fatta mai neanche conoscere e capita molto sì anche io ho visto che arriva alla fine dell'adolescenza senza sapere che è quasi una violenza uguale a quella dell'obbligarti a entrare nel senso che io dico così come è violenza dirti sei nato in questa famiglia non puoi che proseguire con l'azienda di famiglia è ugualmente una forma di violenza il dire guarda tu puoi conoscere tutto il mondo meno quello che ti appartiene è una follia e questo è fra i temi che senza arrivare magari a queste estremizzazioni però poi sono i frutti amari per così dire che si raccolgono di un certo atteggiamento che punta a tenere la distanza che punta a voler far esplorare tutto il resto del mondo che è bellissimo è legittimo te lo dico io che ho iniziato dicendo da una persona che nasce in un'isola ho sentito il bisogno di uscire dall'isola mia moglie ancora ogni tanto quando sto troppo tempo qui mi dice salvo hai bisogno di prendere un aereo esatto però effettivamente è una realtà e d'altro canto ti dico ho vissuto anche sempre insieme al Family Business Consulting Group un'esperienza assolutamente di segno opposto che ancora oggi considero a dieci anni sì più o meno dieci anni da quell'episodio forse l'esperienza più sfidante che mi sia capitato di vivere una famiglia centroamericana in cui in un fine settimana in un golf club riservato da questa famiglia abbiamo lavorato con 270 familiari a disegnare la visione di questa famiglia sul loro gruppo imprenditoriale per i prossimi vent'anni quando io arrivai lì e vidi la situazione mi tremarono le gambe perché si caspita 270 persone come fai a farle lavorare insieme e invece lavorarono egregia avevano fatto cinque anni di family university con altri colleghi del Family Business Consulting Group si erano ben preparati però fu un lavoro assolutamente straordinario li dividemmo in tavoli da dieci e c'erano gruppi di dieci persone al tavolo che lavoravano anche litigando su prospettive diverse quell'esperienza mi insegnò molto per esempio sul tema dei conflitti perché il conflitto nelle aziende familiari che viene spesso considerato qualcosa da evitare in realtà va evitato che si arrivi a circostanze in cui il conflitto diventa un conflitto relazionale cioè un conflitto in cui io per il fatto che sia tu a dire quel che stai dicendo non sono d'accordo non ascolto neanche cosa stai dicendo è perché viene da te che non sono d'accordo ma questo è spesso il risultato di un cattivo modo di maneggiare relazioni in precedenza o talvolta anche un cattivo modo di maneggiare i conflitti di contenuto i conflitti di merito che invece possono essere soprattutto in momenti di grande trasformazione come quello attuale il conflitto non vale assolutamente questo apre le porte all'ultima domanda che pensavo di farti perché l'ora è volata non mi sembra neanche sia iniziata siamo quasi alla fine io cerco di mantenere sempre l'ora e Luca del medico ci propone non so se la vedi la comindividiamo anche una domanda che era anche la mia cioè qual è il futuro per le imprese di famiglia c'è ancora spazio per questo modello di business o è passato di moda e eventualmente le nuove che nascono hanno ancora senso che siano vissute così in modo integrato tra famiglia e impresa o è meglio già avere una separazione fra queste due dimensioni la tua visione per il futuro ovviamente parlare di futuro è sempre molto molto complicato perché nessuno di noi ha la sfera di cristallo anche se io dico sempre che è vero che non abbiamo la sfera di cristallo ma i tempi ci impongono di dotarci di un radar per poter guardare un po' oltre quello che l'orizzonte ci mostra io credo che da questo punto di vista ci siano casi molto diversi perché per esempio pensare ad aziende come le start up di nuova generazione fatte da giovani come aziende di famiglia è piuttosto complicato perché spesso queste realtà nascono da gruppi di amici che si mettono insieme e che vivono la loro avventura come un'avventura professionale però mi è già capitato di cominciare a vedere che qualche anno dopo questi ragazzi si sposano mettono su famiglia hanno dei figli e che prima o poi qualcuno di questi figli comincia a far capolino in azienda ho lavorato per alcuni anni con un'azienda farmaceutica non era esattamente l'azienda fondata da quattro studenti era un'azienda che nasceva da un gruppo di persone che avevano lavorato insieme per una multinazionale americana poi questa multinazionale americana aveva chiuso i battenti in Italia loro erano andati in mobilità dopo qualche tempo uno di loro ha chiamato gli altri e gli ha detto ragazzi ma cosa vogliamo fare i pensionati a 50 anni oppure ci diamo una mossa e proviamo a fare qualcosa di nostro quattro di loro si misero insieme e hanno fatto questa azienda è un'azienda che è andata anche abbastanza bene sono passati in un momento difficile perché lo start up fu nel 2010 sono passati da zero a 30 milioni di euro di fatturato in qualche anno dopo di che ed avevano una struttura assolutamente manageriale persone compete competenti loro competenti collaboratori che tiravano dentro un consiglio d'amministrazione ben bilanciato e così via di seguito a un certo punto entrano i figli e io che li avevo accompagnati in consiglio d'amministrazione un giorno arrivo in azienda e vedo il figlio di uno e poi facciamo una riunione e spunto il figlio dell'altro li ho chiamati e ho detto ragazzi qui dobbiamo parlare perché mi va benissimo che i vostri figli entrino però primo spero che ognuno di voi non abbia scoperto che il figlio dell'altro era entrato nel momento in cui lo ha incontrato in corridoio secondo forse il caso che cominciate a ragionare capendo quali saranno le implicazioni domani del fatto che i vostri figli diventeranno soggi e così via di seguito io credo che il futuro ci riserverà casi molto diversi nel senso che continueranno a esserci aziende di famiglia come le abbiamo conosciute in cui una famiglia o poche famiglie si mettono insieme e gestiscono un business e così via di seguito avremo l'opposto delle aziende che nascono come venture di gruppi di colleghi amici e così via di seguito e non ci saranno implicazioni familiari avranno una gestione molto tipicamente capitalistica ci saranno queste situazioni un po' ibride in cui i rapporti saranno tendenzialmente più professionali ma con aperture all'ingresso dei familiari queste situazioni vanno correttamente regolate vanno correttamente affermate perché vivranno alcune delle sfide delle aziende familiari e il rischio è che le vivano senza averne la consapevolezza assolutamente questa è chiave perché per tutti quelli che ci seguono la famosa affermazione che dice che i famosi tre cerchi come diceva Davis stanno bene insieme quando sono porosi cioè quando c'è un po' di confine ma c'è anche un po' di trasmissione di dati ha a che fare col fatto che c'è un mondo imperditoriale ma anche un mondo proprietario che deve governare l'impresa e quindi da quel punto di vista quando comincia a toccare la proprietà e comincia a toccare il fatto che una famiglia in qualche modo ha un bene di cui dispone anche per le generazioni future bisogna educarle se non a fare gli imprenditori in prima persona i manager in prima persona a gestire quel patrimonio non necessariamente a uscirne come diceva un imprenditore un imprenditore americano di cui leggevo un bellissimo libro diceva non crediate che sia una buona soluzione per una famiglia imperditoriale liquidare l'impresa e mantenere un patrimonio liquido perché poi si aprono tanti altri problemi di gestione di quel patrimonio quindi non è che hai risolto il problema perché ti sei disfatto dell'impresa e non è che l'impresa togliendosi della famiglia imperditoriale sia naturalmente portata al successo perché è manageriale perché le mancherà uno spirito quello della proprietà come diceva l'amico Paolo Gobitta probabilmente dovremo avere un approccio più dinamico nella trasmissione della proprietà piuttosto quindi non essere vincolati troppo rigidamente a una famiglia che poi non ha più la volontà o la velleità di un percorso di crescita credo sia questa la sfida grande che abbiamo vista allora non raccolgo gli spunti o almeno non so se tu vuoi fare un flash veloce per chi chiede dello smart working nelle imprese di famiglia dove il problema è della delega e del non controllo diretto eventualmente o addirittura la gamification che è un termine che conosco fino a un certo punto quindi non so cosa voglia dire praticamente nell'attività di esercitazione di facilitazione essenzialmente per la gestione dei conflitti non so se vuoi cogliere qualche beh per quanto riguarda lo smart working esistono studi che sono stati fatti in questo in questo periodo e le aziende familiari non sono state seconde alle altre nel ricorso allo smart working io credo che tutti abbiamo imparato a shiftare molto velocemente verso il digital possibile con difetti con problemi e così via ma in un anno abbiamo fatto passi da gigante in questa in questa direzione la mia prospettiva è che quando questa questa necessità questa impellenza sarà terminata non torneremo indietro e non rimarremo al punto in cui siamo ci sarà una combinazione di come si faceva prima di come si fa adesso che cercherà di usare al meglio entrambe le le cose per quanto riguarda il tema della gamification è un tema su cui onestamente io sto lavorando molto da un po' di tempo a questa parte ho sviluppato un tool che si chiama scimmiottando trovando ispirazione al business model canvas di Osterwalder ho inventato uno strumento che si chiama family in business model canvas e che è uno strumento che serve proprio per bilanciare benefici e apporti nella relazione tra la famiglia e l'impresa è uno strumento che adesso sto anche digitalizzando e che diventerà una piattaforma spero entro l'estate in cui si potrà lavorare insieme a distanza piuttosto che no e che sto ho pensato soprattutto per esempio ad aziende di media dimensione che trovano più difficoltà nell'accedere alle servizi di consulenza costosi e così via di seguito e quindi può essere un modo per ridurre l'impegno di consulenti di livello elevato rendendo accessibile il loro costo e i loro servizi a aziende di dimensione media questo credo sia un gran punto penso anch'io che dobbiamo trovare il modo di accompagnare tante piccole medie imprese che non hanno la disponibilità come dici tu ma il bisogno invece ce l'hanno pari esatto a volte anche più più complicato ancora e quindi sarà un motivo per chiederti magari delucidazioni ulteriori ma per me in questo momento non è altro che una grandissima piacere di averti ospitato di averti conosciuto un po' meglio sento un grande dovere di ringraziare l'amico Vartan che ci ha messo in contatto quindi lo salutiamo anche se per caso ci segue perché è grazie a lui che abbiamo avuto questa occasione di conoscenza e per me preziosissima perché è stata una testimonianza molto forte molto ampia tra accademia e ricerca sul campo di un tema che non se mi finisce mai di studiare di imparare di approfondire grazie a te una bellissima opportunità a presto e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito arrivederci arrivederci